Amici, finalmente dopo moltissimo tempo, tipo dieci giorni anche di più, siamo tornati con la mappa parkour Delirium. Ora, il primo episodio è stato un delirio totale, vi invito ad andarlo a vedere in caso, se ancora non lo avete visto, e in questo secondo episodio sono abbastanza sicuro che sclereremo ancora di più. Detto questo vi invito a lasciare un bel mi piace, condividere il video se ancora non l'avete fatto, iscrivervi al canale e soprattutto pregare per me. Iniziamo. Dunque, l'ultima volta ci eravamo bloccati qui, ovvero che continuavamo a cadere. Oddio, già iniziamo signori, già iniziamo, mi vien da piangere. Che poi, pensandoci bene, questo salto, perché l'altra volta riuscivo a farlo tranquillamente e oggi no? Che tra l'altro mi ero bloccato malamente nella zona più avanti, dai salta tutto di fila, superiamo le teste dei creeper e saliamo da ste parti. Ora, c'era sempre la questione di, intanto, sti scheletri, sti cosi... Che problemi avete? Ok, allora, dicevamo, qui ci diceva appunto, open the door inside you. Ok, ora, guardate. Voi dite, non c'è scelta di... non c'è modo, più che scelta, di salire. E invece, se fate così e così, vi fa il doppio salto. Non sapevo sta cosa del doppio salto. No, non ci arriverò mai. Ah, tensione, tensione, che tensione! Quindi? Oh, tre ore dopo, minchia! No, le scale, perché le sc... Ok. Ok. Ah, che botta, ho sentito tutta la botta. Vabbè, almeno ripartiamo da qui, non è un problema. Però, no, oddio sto coso ogni volta. Allora, non dovrebbe essere troppo difficile. Esattamente. Salve. Ok. Eh, sto salto è fattibile. Sì, se ce l'ha messo, vuol dire che è fattibile. Vuol dire che è fattibile! Ok. Ha qualcosa che dice? Neck Eclipse. Dai, dear, un saluto a Neck Eclipse, che so che segue i miei video. Però, so che questo saltino è infattibile. No! Non voglio morire! Non voglio morire! È lì, è lì il checkpoint. Non voglio morire. Non voglio morire, c'è lì il checkpoint. Dai, là va! Ci mangiamo una mela, per sicurezza. Che non fa mai male. E proviamo il saltino. Ok. Arrows. Arrows, arrows, arrows. Arrows, arrows, arrows. Do 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 do. Arrows, do 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 do. Ok, mi devo dare una calmata. Credo che debba prendere la mega rincorsa. No, please, no, please. No, please, I have family. Please, no, 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 no. Riproviamo. No, 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 no. Riproviamo, ho detto. Riproviamo, ho detto. Ok, checkpoint, checkpoint. Ah, dovevo fare tutto di fila. Ok. Ok. Questo è facile. E questo, in teoria... No, no, no. No, 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 no. Oddio, signori, sto già tiltando. Piano, piano. Tiltiamo. Porca merda. Che poi è un po' che non portavo la mappa... Ah, sto andando dalla parte opposta, ho detto. Ma infatti non era la strada di prima. Mi sembrava strano. Mi sembrava... Trovi tutto di fila. Va bene, va bene. Siamo vivi, siamo vivi, siamo vivi, siamo vivi. Oh, sto coso della lava me lo devo sempre prendere. Cioè, mi salvo. Per salvarmi mi salvo, però lo prendo. Ora, mi sa che voglio aspettare che mi si rigenerino i cuori. Perché altrimenti ci muoro. E io non ci voglio morire, eh. Io non ci voglio morire. Oddio, oddio, oddio. Sembra la cosa più difficile. Invece è la più facile. Immaginate, è la più facile. Non lo supereremo mai. Eh no, se gioco così poi non lo supereremo mai. Ok. Ok. No. C'è un pezzo di me. C'è un pezzo di me. Ok. Siamo tornati. Ora. Come lo faccio io sto salto? Ah, così. Ok. No, dai, non voglio morire. Voglio una pressure. Voglio una pressure. Oddio, oddio. Ho una paura assurda. Eh, vabbè. Siamo vivi. In teoria dovremmo vivere. In teoria dovremmo vivere. Ti prego, ti prego non farmi morire. Che lì c'è della roba e non c'è della lava. Dai. Ok. 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 It's ok to be gay. Cosa? Oh, questa è facile. Questa è molto facile. E acqua. Sì. 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 Non chiedetemi come. No, sei un infame. Sei un infame. Allora, dillo che sei un infame. Però, 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 ma questi giovani di oggi nooo. Ah, però, oddio, in realtà potrei ucciderlo con le frecce. Lo ammazzo con le frecce. Te la sei cercata, biaci. Sti guardiani infami. Cosa credono di fare? Guardiani o cosa? Cosa vuoi guardianare? Vabbè, saliamo da qua. Che facciamo prima? Meno evitiamo di fare il parkour. E in teoria la strada dovrebbe essere giusta. Dovrebbe essere così, 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 così. Non so come, ma va bene, l'ho fatto. Così, e poi così. C'era una pressure? No. Allora, facciamo così. Piano, piano. Non cadere ora. Non cadere ora, perché poi piangeresti. E faresti una brutta figura. Use momentum da... Cosa? Questa mappa è carina, però ogni tanto ti mette dei trucchetti che poi scopri solo alla fine, tipo quelli dell'ultimo episodio, che l'ho scoperto alla fine, però se sono stupida continuo a cadere. Anche no, grazie. Già la sta quarantena mi sta facendo impazzire, in più se faccio ste mappe impazzisco il triplo. Perché lo sto facendo? Perché lo sto facendo? Perché lo sto facendo? No, qua devo andare qua, esatto. Poi devo andare qua. 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 Quack. 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 Perché? Che palle? No, uso la palla di neve. Via, palla di neve. Un bel nome da dare a un cane, palla di neve. Sì? Se avete un cane, chiamatelo palla di neve. Ok, siamo tornati. Non so come, ma siamo tornati. Ora devo saltare qui e poi saltare lì. Non è difficile. Non è difficile. Fermo. Voi non avete idea del panico? Del panico che hai a stare sul ghiaccio. Ora. Ok. No, ok è una merda. Ok, niente. Dai, che panna. Dai, ma perché io devo perdere tutta la mia vita qui? Vabbè, che in quarantena non ho molto da fare. Eh, vabbè. Signori! Cioè, dire che mi fa male il cuore, il cuore, sarebbe poco. Ora, io non voglio sbagliare. Io non voglio sbagliarlo. Sì. No, quanti sono? Ma che palle, quanti sono? Dai, fatemi vedere la situation. La situation. Io non ce la faccio più. Io vi giuro che dopo questa mappa mi vado a sparare. Non ce la faccio più. Mi voglio sparare. Yeah! Ok. 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 Eh, mi sa che non ce la faccio. E invece? Ok. Ora. Ti prego. 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 Sì. 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 Checkpoint. Prendilo 20 volte. 20 volte lo devo prendere. Sì. Sì. E ora? Ah, ok. Eh, vabbè. Che cazzo. Dai, ho sbagliato la cosa più facile. Che stipido. Ora, devo fare tutto piano. Tutto molto. Troppo. Assolutamente piano. No, quel salto sarà difficile. Sarà molto difficile. Ma noi ce la faremo. Ce la faremo. Sì. Ok. Salto qua. Imbroglio. Ok. Ora, level 6. Quanti livelli ho fatto? Uno ne ho fatto. Cosa? Come uno? Ma è tipo un'ora che sto registrando. Non ce la faccio più. Guarda, dove devo passare? Devo andare qua. Che in realtà era più semplice del previsto. Ma hey, sono stupido. Ora, andiamo. Qua proviamo il salto impossibile. Il salto è infattibile. È infattibile. Ok. Vabbè. Fin qua è facile. Fin qua è facile cheat. Ok, master. Ok. Ok. Bravo. Continua così. Eh sì, bravo. Bravo. Bene, 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 bene. Bene, 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 bene. Bene, bene, bene. Bene, bene, bene. Ok, siamo sopra. Non so. No, la soul sand. Oh, ok. Ho fatto uno sforzo io proprio. L'ho sentito tutto. Sali, 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 sali. Ok, soul sand. Devo arrivare tipo qua. No, non così, non così. Avevo fatto bene tutto. Beh, comunque non è troppo difficile, eh. Ce la facciamo. Oh, ma perché ogni volta che lo dico cado? Ma so stupido. Oh, ogni volta che lo dico sembra fatto apposta. Sembra fatto apposta. Ok, siamo tornati al punto di prima e abbiamo sbagliato di nuovo. E abbiamo sbagliato di nuovo. Bah, ci proverò l'ultima volta. Tornerò a questo punto, ci riprovo e poi ci rinuncio. Io ve lo dico che ci rinuncio, eh. Tranquillamente. Allora, siamo tornati. Il trucco non è andare sull'angolo, bensì qua. Esatto, esatto, esatto. Pressure. The Champions! Ok. Vabbè, questo è facile in realtà. Ah, guarda come ci sto prendendo la mano, guarda. Pronto, carico, carico, carichissimo. Sali, sali, sali. Ok, anche questo facile, anche questo facile. Eh, ora arriva il difficile. Vabbè, in realtà no, eh, infatti. Ok. Ok. Mangio per sicurezza, per sicurezza. Eh, e mo? Eh, c'è la scala qua. C'è la scala qua? No, basta, ci rinuncio, basta. Addios.